No, c'è l'altra stella, Marchetti e Morgenti contro Raymond. Sì, non torna la pelle, non c'è la tappa, non c'è la tappa, non c'è la tappa. Sperlini, non c'è la tappa, non c'è la tappa, non c'è la tappa. Sperlini, 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 non c'è la tappa. Non c'è la tappa. Non c'è la tappa.